Le bambine stanno avanti, si sa, sono più sveglie, crescono prima. Alzi la mano a chi non l'ha mai sentito dire nella sua vita. Io l'ho sentito un milione di volte. Succede quando imparano a gattonare, succede quando imparano a parlare, succede quando imparano a stare in relazione con gli altri, succede anche a scuola. Infatti hanno voti migliori le bambine generalmente, vengono bocciate di meno, interrompono di meno gli studi, insomma sono più sveglie dei propri compagni maschi. Ma perché? Perché sono più obbedienti, rispettano di più le regole, esplorano di meno. Dopotutto a una bambina da piccola si regala una cucina per giocare e così impara subito a guardare dentro. E a un bambino invece si regala un'astronave, così si abitua subito ad esplorare il fuori. E poi crescono le bambine e diventano anche delle studentesse migliori all'università. Si iscrivono di più, sono il 55% delle immatricolate. Si laureano di più, sono il 57% dei laureati. Adesso stanno anche abbandonando quella paura e quell'ansia che le ha sempre portate a dire io per la matematica non sono portata e che le ha sempre tenute lontane dalle facoltà STEM che per inciso sono anche quelle che garantiscono posti di lavoro migliori e ritribuzioni più alte. Oggi una di loro, un underdog, come si è definita, è diventata anche la prima donna presidente del Consiglio. Un'altra è diventata leader dell'opposizione. Non ci hanno sentito arrivare, ha detto. E poi tante altre donne hanno sfondato il mitico tetto di cristallo. Abbiamo la carica delle dodici magnifiche, erettrici delle università italiane. Certo, dodici su ottantacinque, un po' poche direte, però mai tante come ora. Abbiamo la prima donna presidente della Corte Costituzionale, la prima donna presidente della Corte di Cassazione e di qualche settimana fa anche la notizia della prima donna alla guida di un rimorchiatore nel porto di Ancona. E allora perché parliamo ancora di donne e di patriarcato? Lo sappiamo tutti, no, ormai, che uomini e donne fanno parte della stessa categoria degli esseri umani, di cui ogni persona rappresenta un esemplare unico e irripetibile. Serve ancora essere femministe oggi? Vi ammetto che me lo domandavo anche io. Quando con Save the Children, l'organizzazione dove lavoro, abbiamo deciso di indagare le relazioni tra gli adolescenti oggi, mi aspettavo che qualche risposta, qualche loro risposta, mi avrebbe un po' scosso. Dopotutto venivamo fuori dall'omicidio di Giulia Cecchettin, che poi abbiamo scoperto essere anche vittima di stalking per lungo tempo, inascoltata. Venivamo fuori anche dai terribili stupri di Palermo e di Caivano. E quindi ecco che qualcosa nelle relazioni stesse scricchiolando me lo aspettavo. Sapete, quando un adolescente, un preadolescente entra in relazione con qualcuno al di fuori della propria famiglia di origine, beh, è proprio in quel momento che costruisce la sua identità, indiscutibile, unica. Ma su che basi i ragazzi e ragazze stanno oggi costruendo le proprie relazioni? Ce lo siamo chiesto con questa indagine che ha somministrato dei questionari a un campione rappresentativo di 800 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni. Beh, quelli che vi sto per dare, potrete dire, sono solo numeri. Ma sono numeri importanti perché fotografano la realtà e fotografano quello che vuol dire oggi essere una ragazza, quello che vuol dire oggi essere un ragazzo e su che cosa si fondano le relazioni tra i due sessi. Tra quelli che abbiamo intervistato, il 70% ritiene che le ragazze siano maggiormente propense a piangere. Il 50%, uno su due, pensa che le ragazze si sappiano prendere cura meglio dei ragazzi degli altri. Solo il 3% del campione pensa che i ragazzi abbiano una maggiore propensione al pianto. I cure sarebbero contenti. Boys don't cry. Ma avveniamo il consenso allora. Direte forse andrà meglio. E invece no. Anche quando si parla di consenso troviamo dei numeri quasi agghiaccianti. Il 43% del nostro campione pensa che se una ragazza davvero non vuole un rapporto sessuale, allora il modo di sottrarsi lo trova. Il 29% pensa che una ragazza possa contribuire a provocare la violenza anche con il suo modo di vestire o con il suo modo di comportarsi. Il 24%, che sembrano pochi, ma sono quasi uno su quattro, pensa che una ragazza che non dice esplicitamente di no, allora è disponibile ad avere quel rapporto sessuale. Il 21% pensa che una ragazza quando è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sotto l'effetto dell'alcol è perfettamente in grado di acconsentire o meno ad avere un rapporto sessuale. E allora la violenza di certe canzoni che ascoltano oggi gli adolescenti non ci dovrebbe tanto stupire che poi ad ascoltarle bene certe canzoni, quelle che ascoltano gli adolescenti, ci aprono un mondo, un mondo che molto spesso ci ha precluso. Eccoti la love story, senza uscire mai fuori, fa una di queste canzoni. L'avete riconosciuta? È stato un successo poco tempo fa al botteghino. E infatti ci svela un mondo nascosto, quello on life degli adolescenti. Un mondo dove virtuale e reale si fondono insieme e non si può ragionare dell'uno senza prendere in considerazione l'altro. Sono nuove relazioni intime quelle che vivono gli adolescenti. Il 73% del nostro campione ci ha detto che ha conosciuto persone, anzi a stretta amicizia con persone prima sconosciute attraverso gli ambienti digitali. Il 63% ha usato i dispositivi digitali, i social media, per avvicinare persone a cui erano interessati. Il 33% ha scambiato foto a sfondo sessuale, contenuti a sfondo sessuale, video, con amici e conoscenti. L'11% ha visto, ha subito la condivisione di proprie foto, di proprie video intimi senza il proprio consenso. Ecco, allora la quarta rivoluzione, quella digitale, è come se smaterializzasse i corpi degli adolescenti e allora è facile essere un dress, vestiti. Però poi gli ambienti digitali, quando si entra in relazione con gli altri, possono diventare molto pericolosi. Potente strumento di controllo. Ma appartieni, se ci tieni, 2.0. Il 21% degli adolescenti che abbiamo intervistato pensa che geolocalizzare il partner per controllare dove sta, per controllare i suoi spostamenti, sia una cosa, dopo tutto, accettabile. Il 20% pensa che dare la propria password dei dispositivi o anche del proprio profilo social per far controllare al partner con chi si scambiano messaggi, che cosa si posta, sia una prova d'amore. E poi dall'online all'offline il passo è molto breve. Il 34% dei nostri intervistati ha ricevuto con insistenza telefonate per sapere dove si trovasse. Il 19% è stato spaventato da schiaffi, pugni, spinte, comportamenti che nulla hanno a che fare con l'amore e con la fiducia, ma che richiamano solo possesso e gelosia e potere di controllo. Una ragazza che ho intervistato per la ricerca mi ha detto io ho tante amiche che mi hanno detto che magari non da quello con cui stanno adesso, ma da quello prima sì, qualche schiaffo l'hanno ricevuto. Ecco, allora è per questa ragazza e per tutte le sue amiche, ma è anche per quel ragazzo che non può piangere liberamente e per tutti i suoi amici, che dobbiamo ancora essere femministe oggi. Ma lo dobbiamo essere tutti, uomini e donne. Dobbiamo uscire tutti dalla gabbia degli stereotipi che inchiodano ancora una bambina prima a giocare con la cucina, poi a pensare che uno schiaffo sia normale e alla fine a dover scegliere se essere una madre o tutto il resto. Dobbiamo uscire da quella gabbia degli stereotipi che inchioda un bambino prima a non poter piangere quando vuole, poi a sentirsi minacciato dalla libertà della propria partner e alla fine a pensare che accudire i propri figli sia una cosa solo da mamme o tutt'al più da mammi. Quando torniamo a casa oggi proviamo a ascoltarli gli adolescenti che popolano il nostro mondo, figli, nipoti, amici, parenti. Proviamo a chiedere veramente come stai, come stai davvero. Non smettiamo di parlare di questi temi ovunque, a casa, in ufficio, per strada. Grazie.